Ecco Pakhmut, la fortezza ucraina che ancora resiste sotto un massiccio attacco russo Siamo al centro ma è completamente distrutto Ecco i civili tra i pochi ancora rimasti. Allo Italia, ci vediamo nel bunker con i russi a 200 metri oltre il fiume. Qui c'è la legna per riscaldarsi, bottiglioni di plastica per l'acqua. E qua vive la gente. Questo è il sistema per caricare le batterie a mano perché non c'è elettricità. Siamo usciti dalla città quasi completamente assediata di Pakboot. Grazie. 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 Grazie.